In arrivo in Toscana i fondi europei per l'emergenza Covid per far ripartire l'economia in crisi. Regione e governo hanno firmato l'accordo che consentirà di pubblicare sulla gazzetta ufficiale fra il 15 e il 16 settembre i bandi toscani per cominciare ad accedere prima della fine dell'anno a oltre 264 milioni di fondi europei rimodulati rispetto all'originaria destinazione per sostenere i settori maggiormente in sofferenza a causa della pandemia. A questi fondi si aggiunge uno stanziamento analogo del Cipe per rifinanziare i progetti usciti dal programma europeo. L'operazione è stata resa possibile tramite l'accordo fra la regione e il governo e il via libera dell'Unione Europea arrivato in agosto. Su 264 milioni 141 sono riservati al sostegno delle attività economiche fra cui un fondo per contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese che abbiano sostenuto a partire dal febbraio 2020 investimenti, investimenti, materiali e immateriali. Per quanto riguarda il settore turistico la regione ha deciso di investire 6 milioni e mezzo di euro per sostenere la promozione e altri 5 milioni per la valorizzazione delle politiche di ambito territoriale.